Magister a tacere prima si deve scontrare con il telefono Ma un telefono in un soccorso arriva a vedere Si combatterà niente che con il telefono Si combatterà niente che con il telefono I'll show you Rowdy! I'll show you Rowdy! Rowdy! non c'è nessuno e se la prende con chi si ha trovato you'll be blinded by my golden new form so you're martin blue the one dad told you to keep away from you'll be blinded by my golden new form 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 hey just die Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.